Buona domenica a tutti! Oggi è il 3 settembre, sono le 8.21 e il nostro tempo a Corfu sta per terminare. Per cui diamo un'occhiata anche ai cicli superiori di DAX prima di prepararci al resto della giornata. Come di consueto, che cosa possiamo raccontarci? Che di inverso abbiamo fatto 24 giorni, 24 barre giornaliere, ma non abbiamo trovato un massimo di chiusura, il buffo di chiusura. Da questo massimo, se rimarremo almeno per due giorni sotto, con qualsiasi tipo di candela, potremmo avere la possibilità di vedere partire il quarto T inverso che, ritornando qui sopra, sopra il massimo a 16.042.66, vedrebbe una sua chiusura. Ma abbiamo bisogno di quello? Nella realtà dei fatti è una possibilità, ma noi dobbiamo badare alle regole. Come chiude un mensile inverso con un sottociclo di 3 gradi inferiori, quindi con un T-1 ribassato, ovvero con un T-1 ribassista, ovvero con un T-1 ribassato di giorni, come minimo 3 sotto un massimo. Vi faccio vedere che cosa ho in mente. Ok, questa può essere la nostra chiusura di inverso, eventualmente se volessimo, senza neanche un ritorno sopra a questo massimo. è per arrivare a una durata media, sostanzialmente, rispetto alle 32 barre, rispetto a quella del mensile normale, prima di poter iniziare poi a muoverci di nuovo a ribasso. Ok? Solo che appunto non sapremo se sarà così, se sarà così, se sarà così. Per questo motivo, la cosa importante, a partire proprio da lunedì, qual è? La cosa importante da lunedì è fare il nostro solito controllo sui T-3 e sul grafico a 15 minuti. Per cui, quanto tempo abbiamo ancora, eventualmente, per poter scendere? Poco, ormai mancano due ore, anzi no, scusate, due ore e mezza al massimo, per arrivare a 44 barre. Ma in realtà ci basta ritornare qui sotto, ovvero sotto i 15.840,25, e qui siamo ai 33, basta un tic e poi rimbalzo, per far partire un rimbalzo, tra l'altro, dalla media mobile a 200 periodi. E per andare in chiusura, di che cosa? Del secondo T-3 inverso. Quindi vedremo se ci saranno le premesse per fare un tecnica 2 long, proprio in apertura. E, a quel punto, vedremo anche quante barre stiamo rimanendo sotto questo massimo assoluto, per far partire un settimanale inverso, ne bastano 48, quindi ne masseranno 7, quindi saranno meno di due ore per farlo partire. E poi vedremo la spinta data da volumi e dai prezzi, ok? Anche perché questa è la media mobile che regge i corsi. Noi vogliamo andare a vedere quanto può reggere. In realtà, essendo arrivati all'undicesimo T-3, e qui, essendo arrivati al decimo T-3, abbiamo la possibilità, sul grafico 15 minuti, di fare ancora un raccordo, con finta di rialzo con ribasso, e qui di arrivare all'undicesima barra, ma poi rialzo, ok? Quindi saremo più prodisposti su DAX a fare long sui minimi, nei tempi debiti, che altro, e per dare spazio di due giorni almeno per la partenza di un T settimanale. I tempi qui ormai sono veramente molto stretti per continuare a scendere, come vedete. Direi che è tutto, vi ringrazio per il vostro tempo, vi auguro una splendida giornata, ultima vista di qua, su piscina e mare fantastico di GoFu, e buon ritorno al lavoro a tutti. Arrivederci! Grazie!